Vediamo Ho fatto una cosa su Ari Ho fatto un piccolo ritrucco ad Ari Era vero in Dio Che cazzo Che è? Ecco questa è una bella opera d'arte Di Michelangelo Questa è una bella opera d'arte A me non me la fa vedere di nuovo No dai Ma Van Gogh? Transkog? No Van Gogh con l'H finale Che ne pensi di lui? E' degno di essere un pittore E' la stessa cosa Cioè prendere un foglio di carta e versarci dei colori Poi muovere la mano sul foglio di carta Ragazzi 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 Guardate Ari Finca Ma che è? E' il bello chi Dai Ehm dai un altro pittore No aspetta 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 No no regà regà Eh Che cazzo di cappello è questo? Che cazzo di cappello è? Cosa fa vedere? Non me lo fa caricare Mi sembra lasciato in testa la candela Io hai il cambio e l'immagine Perché qualcuno si può offendere Ehm Frida Cajallo Cazzo vai Non puoi sentire Ma non puoi vedere mai il tuo No 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 Cerca Frida K-K-A-H-L-O Aspetta No 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 Perché qua ci sarebbe tanta roba da caricare Però Potrei essere Le inverse pittori Bozzoni Offensivo C'è così C'è così C'è tutto Restivo Ma il mosco Ne vedo Flambo Pittori Bozzoni 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 Si Si Becchione Si Bozzoni Becchione Avanti Che ne pensi di Bozzoni Non c'è nulla Dove mi capita tipo un cantante Come un cantante Che hai cercato Lo so Mi capirà un cantante Che stai cercando Che c'ho io To Questo devi cercare Le cuffie Perché prendi le cuffie Sono buono anch'io Perché non ti ho diventato un artista Perché alle elementari Facevo questi disegni Anche io Le faccio alle elementari Stiamo flammando Perché sono in prima superiore Cazzo Mi faccio merda Tipo Mi sorella Li fa meglio I pegni Lo so No Aspettate Vado sul pegno Un secondo Mi sorella Li fa meglio E c'è sta pure Una sua opera d'arte Che è finita Sui venti certesimi Raffaello Invece Sempre quello di Tartarogenese No Raffaello Dai Che ne pensi di Raffaello Raffaello Te cerca Raffaello Aspetta Aspetta Che cazzo è sta merda Una domanda Guarda l'angelo Guarda l'angelo Cazzo Opoli Guarda Guarda l'angelo Non me lo fa vedere Il bici Vede sotto la spalla Che ha Da dove cazzo L'ha preso Cerca Raffaello Cantante Da dove cazzo L'ha preso Ti prego Cerca Raffaello Cantante Ti prego Che cazzo è sta a me Chi è Chi lo conosce Questo qua No aspetta Ma Mi è passata Una schiacciassassi addosso Sto tizio Hai Hai Cazzo Hai Hai Cazzo Hai Cazzo Hai Cazzo Cazzo Hai Cazzo Hai Cazzo Cerca Raffaello Cantante Ti prego Per la verità Quando io faccio Sto flame Ti fa ridere Raga Cercate Raffaello Cantante Su Google Immagini Per Sto Cosa Non me La fa Vedere Cazzo Cazzo Il secondo Angelo Che Gli si è Adormentato Metà Parte del Corpo Non lo so Ma te Cerca Raffaello Cantante Che Si frega Degli Angeli Ragazzi Voi si vedevano Pera D'arte Sapete Come Sprecare Una Lavagna Una Lavagna Sì Una Come si chiama Una Tavoletta Per disegno Per controllo Io ce l'ho E anche io Per fare dei buoni Per disegni Ma altro che Picassio Quando potete avere Davide L'avatar Guarda Ho paura A vedere Ma che Dici Mamma mia Che arte Ma è la stessa Cosa Scusate È la stessa Cosa Che vi ho detto Cioè io Vi faccio notare I cose Sui vittori Che nessuno Sapeva Allora Guarda Il mio avatar Questo l'ho fatto Io Con la tavoletta Grafica Cosa Non me lo carica Come era Non lo carica Quello di Wack Ma non me lo carica Se non lo metti Dopo un po' Lo caricherà Da me dice Che non c'è niente Tranquilli Dopo un po' Lo caricherà Un giorno È animato Tec Come fa ad avere Questi sfogni animati Mettendole GIF Eh Mettendole GIF Del tipo Del tipo Te scrivi Tipo su Google Immagini GIF Ti scarichi L'immagine Che è in movimento E poi dopo La carichi E sarà in movimento Come si fa scaricare L'immagine Che è in movimento Io semplicemente Faccio click desk Per salva immagine Nulla di che Ma più che altro Torniamo a flammare Gli artisti No Mi sono l'otto No Non ce l'avevi più Vabbè Vabbè Saluta il tubo Saluta il tubo Perché mi hai registrato Dove davvero Sì Da sette minuti Anzi quasi otto Ok Iscrivetevi al canale Di 90 silver Dark saluta anche te Il tubo Schiattate E ragazzi Ricordate Soltanto Leonardo Da Vinci E Michelangelo Sono gli unici Veri No 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 Michelangelo no Non si sa da dove dire A fare i bici Ma vabbè Va bene Sono Leonardo Da Vinci Lui Lui è l'unico Vero pittore Lui è l'unico Vero artista Io sono famosa Saluta Vabbè Bye bye